good morning youtubers in questo video andremo a vedere tutti i contenuti nuovi che ha portato il dlc black ice ma non solo quindi non soltanto i due operatori e la mappa nuova ma anche un bel po di modifiche sostanziali al gameplay che non mi aspettavo ma che invece sono arrivate purtroppo in questo gioco siamo abituati ad avere un po di cose che non funzionano e tra queste c'è la preferenza delle mappe nei matchmaking quindi anche se io ho provato in tutti i modi a giocare in multi giocatore sulla nuova mappa non c'è stato verso di finirci e ho ripiegato in test fatti in partite personalizzate e caccia ai terroristi per darvi modo di avere per bene un'idea di quello che è la mappa nuova detto questo ragazzi partiamo quindi dagli operatori back si conferma l'attaccante canadese con corazza 2 velocità 2 come immaginavo le armi primarie sono appunto il c8 in versione forze speciali che è sostanzialmente lm4 migliorato dai canadesi ed il cam rs che immagino conoscerete con il nome di fall o fall che però è in variante semi automatica e quindi spara un colpo alla volta come il 417 di twitch l'arma secondaria lmk1 da 9 mm e come gadget possiamo scegliere fra le cariche in eruzione oppure le granate stordenti l'abilità speciale di buck è quella di avere uno shotgun da 12 mm sotto canna e potrete switchare rapidamente dal fuoco dell'arma primaria allo shotgun per farvi fare kill particolarmente ravvicinate o utilizzandolo magari per bucherellare dei muri o pareti distruttibili per quanto riguarda l'efficacia dello stesso calibro 12 posso dirvi che mi ha stupito e potete vedere anche voi nel video nei test che ho fatto come si è riuscito a shottare rook armato addirittura di corazza sparando nel petto quindi direi ha fatto male come non è male il c8 anzi è un fucile d'assalto decisamente molto forte però paga un pochettino lo scotto in termini di recoil perché non è esattamente l'arma più stabile del gioco passiamo quindi a frost la nostra piccola frost che è anche lei un difensore anche lei ha corazza 2 velocità 2 come previsto le armi primarie sono super 90 o benelli m 1014 lo conoscerete probabilmente con quel nome ed è un fucile a pompa che pare che sia uno dei migliori del gioco anche in termini di range ed effettività e poi c'è il c1 9 mm che è lo sterling britannico in versione modificata dai canadesi è quindi un smg della seconda guerra mondiale ed è adatta dalle distanze brevi o diciamo massimo medio brevi con un rato di fuoco contenuto e un danno medio ed infine poi un buon magazine size di 34 colpi devo dire che per quel poco che ho utilizzato lo sterling mi sono trovato bene anche lei come arma secondaria alla mk1 come gadget invece potrete scegliere tra c4 o scudo mobile l'abilità speciale di frost è quella di poter piazzare delle tagliole che immobilizzano l'avversario che ci finisce dentro con i piedini e portarlo quindi allo stato di ferimento e sarà necessario che in compagno di squadra venga a tirare su tra l'altro esponendosi parecchio al rischio di essere ucciso anche lui dovrà quindi liberarvi il piede per fortuna hanno fatto un animazione ad hoc come auspicavo diciamo nel video delle speculazioni le trappole comunque potranno anche portare direttamente a uccisione nel momento in cui chi ci finisce dentro è rimasto l'ultimo in squadra e quindi non può essere liberato come avrete visto ovviamente dalle immagini nel video anche con lei fra l'altro stanno già industriandosi per come mettere le trappole in maniera da inchiappettare per bene gli avversari passando da metterle appunto appena sotto le finestre oppure piazzarle appena sotto appena dopo gli scudi mobili da scavalcare come immaginavo le granate del toucher non servono a niente essendo trappole meccaniche ma si possono distruggere easy sparandoli direttamente addosso devo dire che sono abbastanza grosse queste trappole ma se si gira guardando a mezza altezza senza badare al pavimento per quanto grandi possono essere sono parecchio pericolose perché rischierete comunque sia di crepare di far crepare o comunque sia di far esporre parecchio un altro compagno e tra l'altro frost vedrà il fatto che voi siete finiti nella sua trappola attraverso i punti quindi quando qualcuno infila la zampetta nella nella trappola e espone un suo compagno al pericolo di liberarlo potrebbe ritrovarsi davanti frost che finisce il lavoro e ne fa fuori due al prezzo di uno in generale ragazzi tutti e due gli operatori sono fighi sotto il mio punto di vista quello che è il mio parere buck è il perfetto individualista con una grandissima potenza di fuoco ma accessori che sono scarsi per il teamwork di certo non è paragonabile a toucher a termite o almeno a uno degli scudi che secondo me sono i tre elementi che nel team di attacco devono sempre esserci non devono mai mancare perché se non avete quelli vi precludete troppe possibilità d'attacco e lo stesso discorso possiamo allargarlo alla donzella perché ok va bene le trappole ma in difesa gli essenziali sono rook castle e mute al massimo si può cambiare mute con bandit se proprio lo preferite ma lei è un personaggio che se c'è in difesa fa piacere ma se non c'è sti cazzi diciamo che se manca mute sono cavoli se manca lei non più di tanto diciamo comunque in generale che per il teamwork può essere più utile frost rispetto a buck dato che è possibile controllare in maniera tattica alcune zone attraverso la presenza o meno delle trappole come fra l'altro vi ho già spiegato quello che penso a riguardo nel video precedente di frost e buck passiamo al capitolo mappa prima di tuffarci nelle novità introdotte sul gameplay allora lo yacht è figo ragazzi è davvero figo io mi aspettavo una pianta affusolata come quella dell'aereo ma è decisamente più ampio è una mappa davvero molto grande anche se può non sembrare è molto suggestivo visto che anche all'interno ci sono delle zone ghiacciate e si capisce che è una sorta di yacht da pappone milionario abbandonato perché si è incagliato in un ghiacciaio all'interno ci sono varie sezioni come la sala macchine dove peraltro il rumore dei motori è molto forte disturba tutti quelli che come me ad esempio stanno molto attenti a sentire i rumori degli altri per capire dove sono gli avversari poi c'è la zona bar con le slot machine che nasconde anche un glitch che vi mostrerò probabilmente in un video a parte c'è la stanza da letto ci sono le cucine c'è la cabina di pilotaggio insomma in generale possiamo dire che ha una pianta classica con una zona centrale larga costituita dagli interni e poi ci sono i due corridoi laterali dati dalle passerelle esterne dello yacht dove ovviamente troviamo un sacco di finestre dalle quali è possibile entrare ma anche all'interno c'è molta distruttibilità e pochi posti davvero riparati in alcuni punti quando si sfondano le finestre entra anche fra l'altro tantissima luce che vi flasha quasi per qualche secondo e i due operatori nuovi che sono vestiti di chiaro sono più difficili da individuare rispetto agli altri che generalmente hanno vestiti più scuri mentre qua i colori predominanti della mappa sono particolarmente freddi non ovviamente in tutte le stanze ma diciamo appunto in generale ovviamente non sto qui a consigliare tattiche su come giocare su questa mappa perché l'ho vista un'oretta anche io e so poco e nulla come detto prima è anche bella grande quindi sotto questo punto di vista rimandiamo al prossimo futuro passiamo finalmente a tutti i cambiamenti sul gameplay e le modifiche fatte con questo dlc che porta con sé quindi anche una consistente patch allora proprio tutte non posso citarvele perché sono parecchie ma toccheremo le parti consistenti e per i pignoli lascio in descrizione il link alla patch note quindi se la possono spulciare tutta allora hanno aggiunto la modalità spettatore per poter osservare i due team che combattono questa cosa è molto figa ed è realizzata un sacco bene perché un sacco di feature interessanti su cui però non mi dilungo più di tanto perché vi lascio anche qui un link in descrizione in cui potete vedere questa modalità in tutte le sue sfaccettature la seconda novità è che da questo momento la squadra avversaria non sentirà più le urla random degli operatori della squadra in cui siete voi e viceversa quindi soltanto i nostri compagni ci sentiranno parlare e gli avversari no e questo direi che è buono hanno poi ridotto l'intensità delle scie che producono i proiettili delle armi nell'aria che ad essere sinceri erano parecchio evidenti aiutavano a capire da quale direzione e anche da quale angolazione provenivano gli spari questa è una riduzione generale che però è ancora più accentuata se utilizzerete il silenziatore andando quindi maggiormente incontro alle esigenze di chi gioca stealth poi nelle partite personalizzate ma soprattutto nelle classificate hanno introdotto importanti modifiche i difensori non potranno più difendere lo stesso posto in cui hanno vinto ma a rotazione si troveranno nelle altre stanze da difendere e anche gli attaccanti ora sono liberi di scegliere autonomamente il luogo in cui spawnare all'inizio game senza finire tutti per forza nello stesso punto che poi era quello più votato dalla squadra quindi ora se volete spawnare ognuno per i cavoli vostri bene potete farlo quindi in ottica di un bilanciamento migliore tra attacco e la difesa hanno introdotto un bonus in più all'attacco e un malus in più alla difesa passiamo ora alle flashbang che hanno visto raddoppiarsi il loro raggio d'azione e io questa modifica non la condivido molto in termini di gameplay è decisamente più conforme in termini di realismo però secondo me comunque erano già abbastanza efficaci prima se consideriamo anche che non è che ne portavamo a dietro due ma al doppio quindi secondo il mio punto di vista questa qua non è una cosa particolarmente giusta hanno ridotto poi il livello di rumore dei gadget dei difensori come i jammer di mute per dare meno fastidio appunto a chi all'orecchio fine gioca molto sul sentire passi attraverso i muri ed ora non sarà più possibile sentire ronzio a più di due piani di distanza nella mappa hanno ridotto poi ovviamente anche il rumore delle trappole elettrificate e quelle di cap can le barricate di castle ora fermano i proiettili anche in fase di piazzamento e non soltanto nel momento in cui sono state perfettamente inchiodate e anche questo è buono e giusto e la stessa cosa vale per le pareti rinforzate hanno poi introdotto il nome della modalità e della mappa nelle fasi di pianificazione mentre scegliete i vostri personaggi e anche qui la cosa è buona e giusta perché mi sono trovato più volte a chiedere raga avete visto in che modalità siamo ecco ora non ce ne sarà più bisogno hanno ridotto l'effetto polvere che appare sullo schermo quando si sfondano a superficie oppure c'è un'esplosione che effettivamente per quanto potesse essere realistica come cosa dava un pochettino fastidio perché era molto accentuata un'altra cosa sacro santa hanno modificato i danni che si visualizzano nel menu per ogni arma finalmente ora il danno che vedete è il danno che le armi fanno un personaggio con corazza 1 senza silenziatore ovvio è abbastanza incompleto come lavoro ma almeno quei dati iniziano ad avere un minimo di senso infine hanno modificato i livelli di ranking perché secondo le loro statistiche troppi pochi player andavano in oro in platino e men che meno in diamante in cui erano lo 0,001 per cento dei player che ci giocavano tant'è che tutti noi avremmo ricevuto livello rank ed superiore ad esempio sono passato da oro 1 a oro 4 e così via ci sono poi dei rumors riguardo al fatto che la martellata di sledge sia diventata più veloce e questa cosa sinceramente devo ancora vedere se è vero o meno al massimo potete confermarvela voi nei commenti quindi ragazzi ci sono ancora un po di modifica che sono state fatte possiamo definire minori ci sono delle correzioni di bug che lascio a voi appunto l'onere di spulciarvi o stiamo qui sette anni che per quanto possa essere piacevole immagino che avete ben di meglio da fare e qui so che qualche malizioso sta pensando a qualcosa di preciso dai qualche uno l'ho preso di malizioso questa frase dai ragazzi siamo arrivati alla fine del video e come al solito noi ci vediamo presto ciao 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 ciao